Sì, è la prima volta che lavoro insieme ad Alisaidi. Sì, il fatto di provenire da due ambiti, ma soprattutto da due sensibilità diverse, può essere da una parte motivo di scontro a volte e da un'altra parte può essere invece uno stimolo a confrontarsi con un artista che lavora in maniera diversa. Ma allora, in realtà io più che a livello mediatico, anche perché non guardo più la televisione da anni, ne sono stata bombardata dal vivo, nel senso che tutto quanto, la stessa idea di iniziare a lavorare su uno spettacolo legato alla prostituzione, al di là delle ricerche precedenti legate alla mia tesi di laurea e al tema delle devadasi e della prostituzione. Insomma, il tutto è nato da un'immagine fortissima che si è ripetuta per svariate sere, circa due anni fa, due anni e mezzo fa, di ritorno dalle mie lezioni di danza baratanatiam. Io finisco molto tardi di insegnare, verso le undici e mezza, quando ritornavo a casa, si ripeteva ogni sera la stessa scena. Su questa strada, a questa stazione di benzina, c'erano due, tre, quattro, sette, otto prostitute, probabilmente nigeriane, che si prostituivano, i soliti clienti che si fermavano. Finché una sera è successo qualcosa di diverso. Sulla strada non c'erano più delle ragazze, ma c'era una bambina, una bambina di dieci anni, io credo. E da lì è nata l'urgenza di cercare di fare qualche cosa. La prima cosa è stata ovviamente cercare di fare qualcosa nell'immediato, quindi telefonare alla polizia, ai carabinieri e poi di fronte alla frustrazione di vedere che nulla cambiava e di fronte alla domanda che cosa posso fare io, essendo non un assistente sociale né altro, ma un artista, che cosa posso fare per intanto uscire da questo senso di frustrazione e poi forse per cercare di cambiare qualche cosa. Il lavoro è nato viaggiando costantemente fra dentro e fuori, cioè fra la ricerca di un personaggio e l'apertura anche di spazi intimi, spazi personali che andavano da un lato ad arricchire il personaggio e viceversa, nel senso che poi è anche vero che la costruzione del personaggio in qualche modo permette al personale di emergere e di manifestarsi. Anche da questo punto di vista ho cercato di essere in ascolto, in ascolto di quello che emergeva dalle improvvisazioni e cercando di procedere in maniera abbastanza claudicante all'inizio fra quello che era l'obiettivo così tecnico e di arrivare alla costruzione di una scena che avesse una sua coerenza, che avesse una sua forza e dall'altra parte il tentativo di far emergere comunque la persona e l'essere umano, quindi il percorso personale di ognuno dei performer. Allora, la multimedialità ci lavoro da un po' di tempo, un punto di partenza è sempre il corpo, sicuramente è la prima volta che lavoro sulla scena sensibile e quindi su un'interazione così forte. La difficoltà più grossa è il tempo, da questo incontro sono nati degli stimoli incredibili, ci sono venute in mente delle idee, secondo me, molto molto interessanti che però richiedono molto tempo per essere abitate, per funzionare, per essere presentate e quindi il rammarico per adesso è quello di non essere in grado di riuscire a mostrare quello che per ora è un sogno un'immagine che spero però si possa realizzare nel futuro.